buongiorno weekend benvenuti ecco questa è la musica di buongiorno weekend benvenuti all'appuntamento del fine settimana targato cusano italia tv quello che sentite in sottofondo è il promo che sta ricevendo un sacco di successo e di complimenti e io ovviamente devo ringraziare la squadra di buongiorno weekend che ha realizzato questo promo musicale fantastico dietro alla telecamera c'è ivano di giambito che ha realizzato interamente la base da zero completamente alla regia di buongiorno weekend e alla regia e anche alla camera del promo musicale c'è ovviamente lorenzo fantini con il contributo di consuelo al montaggio l'aiuto di loro occhi di beatrice mazzoni insomma se non l'avete visto guardate lo mettete like su instagram dove è stato pubblicato anche sui nostri social perché il promo musicale di buongiorno weekend è veramente unico e fa capire tanto di buongiorno weekend perché ci vogliamo divertire è tutto molto colorato e però ci vogliamo tanto bene soprattutto parliamo di cose interessantissimi come sempre potete interagire con la puntata di buongiorno weekend scrivendo al 342 627 5717 ormai lo sapete a memoria questo è il numero di telefono per interagire con i temi con gli ospiti di buongiorno weekend ci arrivano sempre tantissimi messaggi io vi ringrazio per l'affetto ma vi pregherei appunto ancora di più di interagire con gli ospiti fare domande rispetto a quelli che sono dei temi sempre molto interessanti gli ospiti di oggi quali sono ma ve lo dico subito venite con me allora iniziamo ovviamente dal benessere e oggi parleremo di skin quality con la dottoressa caterina cerretani piacevolissimo incontro qui a buongiorno weekend perché tra pochissimo parleremo proprio dell'importanza di avere la pelle sana e come fare per proteggere la nostra pelle ce lo spiegherà lei che è un medico chirurgo estetico subito dopo la puntata è molto oggi culturale all'insegna delle performance perché effettivamente avremo carmen di marzo attrice che da pochissimo è stata sul set di mare fuori e proprio con lei parleremo della sua carriera ma anche del suo prossimo impegno teatrale come regista questa volta eclissi abbiamo parlato della festa della mamma nella scorsa puntata capiremo in che modo questo tema importantissimo entrerà proprio nel suo spettacolo subito dopo e nel cinema proprio in questi giorni con un film meraviglioso che parla dei trentenni delle amicizie dei trentenni di come cambia la nostra vita daniele bagnozzi sarà proprio qui in studio con noi a parlare del la sua carriera che unisce il mondo teatrale quello della psicologia capiremo un pochino meglio subito dopo invece parliamo di api perché lo so il ronzio forse alcune volte ci può far paura però effettivamente dobbiamo proteggere le api il 20 maggio sarà il giorno mondiale delle api e per capiremo quanto sia importante l'apicoltura grazie a lucrezia schiano di visconte che è biologa e apicoltrice parleremo dell'importanza di questo mondo della protezione delle nostre api perché se morirà l'ultima ape noi siamo saremo messi molto molto male e quindi assolutamente dobbiamo proteggerle concludiamo la puntata di buongiorno weekend con l'appuntamento fisso del sabato ovvero giusto un caffè giusto un caffè con chi con un grandissimo attore teatrale maurizio donadoni tra pochissimo anzi proprio in questi giorni è in scena con matteotti medley in occasione del centenario dell'uccisione di matteotti e quindi con lui parleremo della sua straordinaria carriera teatrale cinematografica televisiva ma anche soprattutto di questo spettacolo che ha da dire tantissimo anche soprattutto in questo momento storico tutto questo è molto di più grazie a voi è il vostro affetto quindi continuate a scrivere al 342 627 5717 firmandovi e soprattutto facendoci capire da dove seguite buongiorno weekend così riusciamo a creare questa meravigliosa famiglia di buongiorno weekend iniziamo subito quindi do il benvenuto nel nostro studio coloratissimo alla dottoressa caterina cerretani buongiorno caterina eccomi buongiorno ciao caterina benvenuta grazie mille martina un piacere accomodati pure non c'eri mai venuta qui in questo studio colorato tre volte è mamma mia dovevamo recuperare assolutamente quindi benvenuta in questo studio colorato bellissimo grazie grazie sono sono molto contenta di averti qui perché appunto ci siamo conosciute quest'estate grazie a manuel bartolini a pomeriggio estate e abbiamo affrontato vari temi rispetto a quello che è la tua specializzazione ovviamente cioè la pelle la bellezza intesa in più sensi in più sfaccettature ecco quello che non ti ho detto che volevo proprio capire un pochino meglio della persona di caterina quando hai deciso di diventare medico estetico chirurgo estetico in realtà è stata una scelta casuale ho scelto di diventare medico quando ero bambina ok e volevo fare tutt'altro volevo fare la pediatra perché mi piacciono molto i bambini poi la prima volta che sono entrata in sala operatoria mi sono innamorata della chirurgia veramente era un intervento di cardiochirurgia ma mi ha mi ha preso come se fosse un film e di lì studiando i vari esami che facevo poi l'esame di dermatologia mi ha colpito tanto e ho fatto un iniziale percorso in realtà in chirurgia plastica quindi dove lavoravo sulla e operavo la pelle e non sole tutti i tessuti e poi invece ho incontrato casualmente la medicina estetica che non era proprio agli inizi e quindi che non conoscevo mi è piaciuta moltissimo e sono qua ormai sono una quindicina d'anni che mi occupo di questo e beh grande professionista quindi un percorso che iniziato in maniera sorprendente perché comunque la passione c'era però poi per la specializzazione è arrivata e quindi però che ti ha portato tantissimo successo e tantissime soddisfazioni quindi meno male che è successo tutto questo anche perché vediamo anche già dei video alle mie spalle insomma la medicina estetica è molto particolare sempre di più se ne parla qualche volta nel passato soprattutto era anche piuttosto criticata e non compresa forse perché anche le tecnologie erano diverse insomma quindi c'è stato un periodo in cui era aspramente criticata invece man mano che passa il tempo capiamo che effettivamente si può utilizzare in maniera completamente con dei risultati che hanno una naturalezza in sé molto importante questo è fondamentale alla base di tutto però di tutto questo c'è la qualità della pelle e quindi oggi parleremo appunto di skin quality che cosa vuol dire e soprattutto nel tuo campo quindi che cosa vuole dire la skin quality allora la skin quality banalmente vuol dire qualità della pelle e a me fa piacere che sempre di più si sta dando attenzione a questo argomento non ci si sofferma sulla semplice ruga ma si lavora molto sulla grana dell'epidermide sul sulle prime discromie che che iniziano a comparire e c'è attenzione sempre di più anche tra i giovani su questo è vero che è un mondo io vedo anche sul sui social che viene spinto tantissimo vengono dati tanti consigli anche da gente ahimè non esperta e quindi a me capita anche di incontrare tante anche giovani giovani pazienti che rifanno un utilizzo esagerato di prodotti che spesso a volte vanno anche ad alterare l'equilibrio della pelle e a danneggiarla e i trattamenti che si possono fare sono tanti sia nello studio di medicina estetica che poi assolutamente a casa certo quindi ce ne sono tanti e adesso ne affronteremo la base della qualità della pelle immagino ci siano anche dei fattori che interagiscono con con essa perché soprattutto a roma qui viviamo una città profondamente insomma inquinata e quindi la pelle subisce delle variazioni quali cioè quali sono i fattori che maggiormente influiscono allora prima di tutto il crono aging quindi il passare del tempo è al primo posto e poi ci sono tanti fattori ambientali e anche dovuti allo stile di vita quindi assolutamente l'eccessiva esposizione al sole il sole è uno di delle cose che in assoluto rovina di più la pelle quindi io raccomando a tutti di mettere sempre la protezione il fumo di sigaretta così come magari delle patologie infiammatorie croniche della pelle come l'acne che sai essere sempre più frequente anche in età adulta ahimè tutti questi fattori vanno ad accelerare il processo di invecchiamento della pelle e rendono insomma alterano tutta la grana che noi immaginiamo la pelle dei bambini che è liscia e perfetta e invece crescendo ahimè si modifica ahimè veramente poi c'è un altro aspetto da tenere in considerazione che credo che alcuni siano più consapevoli della propria pelle della salute della propria pelle perché magari si osservano di più fanno più attenzione altre persone invece hanno magari una disattenzione in questo e si rendono conto che qualcosa non va soltanto al fiorare di un estremo sintomo pure segno ecco c'è un modo anche qui nella medicina estetica di poter fare prevenzione quindi assolutamente sì ci sono dei trattamenti mini invasivi che si possono fare in studio partendo dal peeling del quale io sono sai innamorata anch'io voglio provarlo e io ti sto invitando e quando sarò ben felice ed onorata di trattarti perché che cos'è in effetti sono dei trattamenti che utilizzano degli acidi sempre di origine naturale che vanno ad esfoliare la pelle ma non solo lavorano anche sulla stimolazione del collagene dell'elastina quindi non solo ci rendono la pelle anche nell'immediato posto più liscia più luminosa la fanno respirare e questo trattamento fa sì che poi utilizzando a casa i nostri prodotti sieri le creme penetrino davvero uno dei primi problemi che io vedo nella pelle delle persone che arrivano da me e che la pelle è comunque asfittica è troppo ispessita e quindi anche lì se vado a comprare un una crema anche molto costosa un siero e vado a spendere soldi per quello certo io dico ai miei pazienti scherzando dico se ci metti la parmellata poi hai lo stesso risultato dopo è importante sempre esfoliarla quindi il peeling lavora sia sull'esfoliazione ma anche sulla stimolazione cutanea senza aghi è un trattamento in dolore dura pochi minuti è assolutamente molto semplice da parlo di soft peeling che sono quelli più in vogue più utilizzati attualmente altro trattamento io faccio tantissimo i miei pazienti di ogni età cambiando magari un po i prodotti è la biostimolazione la bio rivitalizzazione che sono dei trattamenti ecco vedo vedo dietro di me che contributi dove si utilizzano dei degli aghi veramente molto piccoli dei micro aghi e delle micro iniezioni infatti vedete neanche esce sangue dove viene iniettato direttamente l'acido ialuronico che ne sentiamo parlare sempre ma è una macromolecola quindi una molecola molto grande che per entrare nella pelle ha bisogno che questa pelle sia in qualche modo o aperta o rotta lesionata penso al micro needling penso al peeling ripeto mettere prodotti a base di acido ialuronico su una pelle integra anche se vengono lavorati a livello insomma biochimico molto bene è molto difficile e quindi lì lo andiamo ad inserire direttamente andiamo a lavorare proprio su un'idratazione profonda ecco qui vedete il trattamento di un codice a barre che è quelle rughine che vengono infatti cos'è codice a barre lo chiamiamo noi in termini tecnici e sono quelle rughine antipaticistiche che vengono soprattutto a noi donne ahimè e che invece in questo modo vengono corrette senza però andare a gonfiare le labbra ok mantenendo un aspetto naturale ecco perché appunto rispetto al agli aghi al gonfiare alcune volte quello che dicevo prima nel passato si è tanto criticato si è tanto criticata la medicina estetica invece ecco quei tra virgolette mostri che abbiamo visto in passato è molto difficile è più difficile adesso a me continuano un po a vederti però quello è il piacere personale cioè nel senso vogliono ottenere quell'effetto probabilmente beh sì però lì sta io parlo voglio parlare della mia categoria perché stanno i medici perché noi prima di tutto siamo dei medici facciamo medicina e dobbiamo prenderci cura prima di tutto della salute delle persone e anche del della loro bellezza ma in senso proprio aulico in senso di eleganza è vero che non tutti abbiamo lo stesso concetto di bellezza però devo dire che fortunatamente anche all'ultimo congresso al quale ho partecipato la scorsa settimana che si è tenuto qui a roma alla nuvola che è il simio un congresso internazionale di medicina estetica si è parlato molto proprio di questo ritorno di questa di questa ricerca della naturalezza del del viso dell'eleganza dei trattamenti e del ricorrere a dei trattamenti sempre più mini invasivi sulla prevenzione per arrivare come hai detto tu prima a non avere un problema che poi affrontarlo diventa complicato giusto molto molto giusto quindi abbiamo iniziato a parlare di acido ialuronico e di queste micro iniezioni anche questo è un aspetto da valutare perché alcune volte si ha un po timore ad arrivare dal dal medico estetico perché ho paura degli aghi ho paura di comunque del dolore ecco normalizziamo questo trattamento è molto semplice come vediamo anche del video mini invasivo sì anche se è un'idratazione profonda ma in realtà l'ago è l'ago è molto molto piccolo è veramente come un capello ma prima di fare questo trattamento a me piace sempre mettere la crema anestetica siamo andati avanti insomma con 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 la medicina anche per il dolore per per fronteggiare il dolore si si può utilizzare il ghiaccio insomma io utilizzo tutte queste tecniche anestetiche per rendere il trattamento il più piacevole possibile perché dico sempre gli anni lì e ti fai una coccola è vero e poi quella coccola è bene che che venga continuata anche a casa cioè mi prendo cura di voi nello studio però mi piace dare anche delle indicazioni per fare un'adeguata skin care molto semplice che però da dei bei risultati abbiamo appunto a proposito di casa vediamo questa bellissima foto tua tra l'altro perché in effetti giustamente no non è vero vabbè vabbè allora è un ottimo risveglio nel senso che comunque appunto ci vuole anche il lavoro a casa quindi non soltanto il studio come riusciamo a prendere quindi cura della nostra pelle anche a casa quindi è una beauty routine anche qui di assolutamente sì allora la base di tutto c'è la detersione quindi pulire bene la pelle tanti mi dicono ma io arrivo stanca la sera sono pochissimi minuti che dove se noi utilizziamo dei detergenti giusti mi piace consigliare latte detergente amo un po meno la soluzione micellare se parliamo di di cose di prodotti semplici da trovare e poi è importante sempre fare un risciacquo con un detergente più specifico dedicato alle pelli grasse lì dove c'è una pelle grassa o pelli sensibili e poi va applicato un siero e quale siero esatto anche lì c'è un mondo dipende c'è un mondo mi dicono io sto usando il siero siero che cosa vuol dire siero è un prodotto che contiene pochissimi deve contenere pochissimi principi attivi che vanno a lavorare proprio a livello cellulare non idrata il siero infatti dopo il siero io vado a mettere la crema però il siero mi aiuta appunto a lavorare su qualcosa quindi io devo andare a ricercare dei sieri che abbiano all'interno io consiglio quelli a base di vitamine vitamina c a base di diversi acidi acido mandelico ferulico insomma piruvico ce ne sono tanti tutti gli acidi possibili immaginare tutti perché in effetti alcune volte viene anche ribadito questo concetto è naturale naturale in effetti è il piruvico che ho appena menzionato deriva dalla fermentazione della frutta quando lo proverai sentirai proprio questo odore di quasi di aceto di fermentazione e lo troviamo nell'aceto quindi se uno volesse fare un feeling a casa stando molto attento perché è molto potente però volendo veramente a casa si può fare con il limone che è l'acido citrico che è bellissimo per schiarire la pelle io lo uso tantissimo proprio per le iperpigmentazioni ma anche per dare luminosità alla pelle è molto bello il glicolico il salicilico viene dal salice è vero non avevo mai pensato è la stessa provenienza dell'aspirina che è acido acetil salicilico è vero e quindi anche un potere antinfiammatorio io lo uso tantissimo per l'acne dai ragazzi più giovani ai più grandi molto molto interessante quindi possiamo effettivamente fare qualcosa anche a casa ritornerai un attimo in studio perché abbiamo visto delle piccole punturine di idratazione profonda verso per aiutare questo questo codice a barre come l'hai chiamato anche gli uomini di recente si stanno avvicinando sempre di più alla medicina estetica vediamo anche delle immagini che fanno capire un prima e dopo rispetto a qualcosa che ha a che fare con vedete un bel ragazzo ragazzo che a vederlo insomma giovane non avrebbe bisogno di nulla però è una persona che ride molto fa tanto sport all'aria aperta e noi non vogliamo farlo smettere di sorridere giustamente vuole mantenersi bene e quindi anche su di lui ho fatto un trattamento di idratazione profonda ok e se c'è l'altra immagine facciamo vedere anche proprio l'immediato post questo è subito dopo è un immediato post dove ho utilizzato una cosa che a te fa paura e fa paura anche agli altri ma in realtà è completamente indelore soprattutto non lascia segni che è la cannula ok è un trattamento mini invasivo con un agosmusso è un agosmusso la cannula che consente di passare sotto lui appena fatto il trattamento ha continuato a lavorare ha continuato la sua vita senza senza segni quindi si può fare si può fare dobbiamo assolutamente prendere un po di coraggio e giustamente ecco iniziare da questi trattamenti che sono mini invasivi questi sono tutti acidi aluronici che poi si riassorbono completamente dopo circa un mese quindi non ed è un trattamento che in realtà è finalizzato non tanto a riempire quelle rughettine lì per lì ma a dare proprio appunto una stimolazione a livello cellulare ecco qui abbiamo anche uomini un po' più un po' più grande un po' più annetto in più e in questo caso ho effettuato sia anche un filler in full face quello che viene definito il muscle look poi magari ne parleremo e anche un'idratazione proprio superficiale vedete che ci sono le rughette sempre dovute al sorriso ma anche al sole è vero è vero quindi si può mantenendo l'aspetto naturale no assolutamente perché non si direbbe effettivamente che ha effettuato un trattamento di questo genere quindi davvero questa è anche la maestria della mano della dottoressa sicuramente Caterina Cerretani perché effettivamente bisogna lo dico sempre rivolgersi ai grandi professionisti e Caterina lo è assolutamente quindi grazie per la tua professionalità e per la tua competenza quindi ribadiamo il concetto proteggiamo la nostra pelle sia da casa stando attenti il sole soprattutto in questo periodo infatti ci siamo fermati prima la sera la mattina io consiglio soltanto la protezione quindi un po' più di lavoro lo facciamo la sera perché la notte la pelle si rigenera è vero è vero quindi mentre dormiamo fa già tutto il lavoro noi ci svegliamo stiamo bene mettiamo giusto un po' di protezione e si va protezione ragazzi sempre 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 la protezione Caterina grazie il tempo è volato effettivamente però insomma spero che potremmo rivederci ancora quel buongiorno weekend per continuare questo dialogo sulla salute della nostra pelle un super piacere grazie guardina è sempre un piacere grazie mille rimani qui lanciamo la pubblicità perché tra pochissimo andiamo appunto abbiamo qualche minuto di pubblicità 3426275717 continuate a scriverci tra poco parliamo di cinema di teatro con Carmen e Daniele a tra poco grazie mille